50 anni della Croce Rossa italiana. I volontari di tutta la provincia hanno organizzato una giornata di festa a Isernia. Dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Chiara, tutti in piazza Celestino V per una visita agli stand informativi, ma soprattutto per partecipare alle varie manifestazioni che hanno coperto l'arco dell'intera giornata. Se in serata hanno dominato la scena un concerto e controlli al col test aperti ai giovani, nel pomeriggio i protagonisti assoluti sono stati i bambini, grazie a uno spettacolo di animazione al teatro con le marionette. Cerchiamo di coinvolgere tutti i giovani di Isernia a partecipare alle nostre attività. 150 anni di sofferenza, 150 anni di partecipazione attiva, 150 anni ci ha visti sempre in movimento a favore dei bisognosi, a favore dei malati, degli anziani e soprattutto dei più vulnerabili. Oggi è proprio un periodo particolare, c'è tanta sofferenza e partecipiamo alle loro sofferenza, anche con la nostra sofferenza. I migranti che sono arrivati li abbiamo assistiti con amore, con attenzione, con sofferenza, diciamo, questi volontari meravigliosi hanno fatto anche questo servizio. I volontari della Croce Rossa Italiana non operano soltanto nel loro territorio, spesso danno una mano quando si verificano emergenze nelle altre regioni e in alcuni casi anche all'estero. Albania, Iraq, Lourdes, con la Lombardia e tutti all'ovio con i terremoti. C'era sempre? Sì. Che esperienze sono queste? Dovrebbero farle tutte queste esperienze e dare tutto quello che può dare.